Euclid è in volo da poco più di un anno, da luglio del 2023 e oggi in occasione dell'International Astronautical Congress di Milano l'ESA ha fatto una press release mostrandoci una preview di quello che saranno i dati che verranno rilasciati ufficialmente da Euclid già a partire da marzo del 2025. Si tratta di una immagine, di una porzione del cielo a sud del piano galattico, del piano della Via Lattea che consiste nella combinazione di circa 260 osservazioni fatte da Euclid nel corso di due settimane tra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 2024 e che copre un'area di circa 132 gradi quadrati di cielo questo rappresenta un'area abbastanza grande e ci fa vedere qual è la qualità dei dati con i quali faremo fondamentalmente gran parte della scienza prevista da questa missione. Come dicevo si tratta di 132 gradi quadrati di cielo che occupano una regione del cielo abbastanza libera dalla contaminazione da parte delle stelle della nostra galassia per permetterci di vedere lontano, al di fuori della nostra galassia, quindi il cielo più profondo. Uno degli scopi principali della missione Euclid è quello di fare una mappatura del cielo, di una grande parte del cielo extragalattico, circa un terzo del cielo extragalattico, osservando galassie fino a distanze dell'ordine di 10 miliardi di anni luce da noi. E ha lo scopo di misurarne la forma, misurarne la distanza e permetterci di studiare come l'universo evolve nel tempo sotto l'effetto delle componenti principali dell'universo stesso, che sono la materia oscura e l'energia oscura, per meglio comprenderne la natura. Ecco, questa immagine dell'universo visto da Euclid fa vedere la distribuzione delle stelle che fanno parte della nostra galassia, in particolare questo è il piano della nostra galassia, usando osservazioni fatte dal satellite Gaia. Queste nubi più blu, che si vedono sempre sovrapposte a queste immagini, sono le polveri che fanno parte del mezzo interstellare, così come sono state tracciate dal satellite Planck. E quest'area gialla, qui sotto, al di sotto quindi del piano galattico, è l'area che è oggetto di questa press release dell'ESA, quindi l'area che possiamo ammirare meglio all'interno di questo mosaico, che è appunto questa combinazione di 260 osservazioni fatte da Euclid tra il 25 marzo e l'8 aprile del 2024 e che mostra appunto una grandissima quantità di oggetti come galassie, come stelle, che hanno diversi colori, diverse forme, anche questa emissione diffusa che è l'emissione appunto da parte di quelle polveri e del gas interstellare di cui parlavo precedentemente, queste nubi che sembrano appunto dei cirri, si chiamano per l'appunto cirri galattici e qui dentro all'interno di questa immagine vediamo qualcosa come 14 milioni di galassie. Si tratta di una minima parte di quello che Euclid vedrà nel corso della sua vita. Quando Euclid completerà le sue osservazioni avrà osservato circa 100 volte il numero di galassie che vediamo all'interno di questa immagine e permettendoci di fare studi di diversa natura che vanno dallo studio delle proprietà delle stelle all'interno della nostra galassia allo studio delle galassie più lontane. In particolare Euclid si propone di misurare proprietà di galassie fino a 10 miliardi di anni luce da noi, come la loro forma, la loro distanza, per permetterci di capire come l'universo si evolve e sotto l'effetto delle componenti principali che lo costituiscono, che sono componenti tutt'ora oscure, energia oscura e materia oscura. Adesso andiamo a guardare nel dettaglio questo mosaico ed in particolare vedete qui, questo è il mosaico che ho fatto vedere prima, come area di cielo è paragonabile circa 500 volte l'area occupata in cielo dalla luna piena e adesso quello che faremo sarà andare a selezionare alcune regioni all'interno di questo mosaico, zoomando per vedere i dettagli di questa immagine. Allora il primo ingrandimento che vi farò vedere è quello che riguarda questo riquadro rosso, che corrisponde a circa uno zoom di un fattore circa 3 rispetto all'immagine che stavamo guardando prima e questo è quello che si vede all'interno di questo riquadro rosso quando andiamo ad ingrandire, quindi vedete queste nubi blu sono i cirri galattici di cui si parlava prima, i cirri galattici in realtà per chi è interessato ad osservare il cielo più profondo, quindi il cielo al di fuori della nostra galassia sono una sorta di complicazione perché come vedete costituiscono una sorta di nebbia che offusca le nostre capacità di osservare l'universo più lontano. Fortunatamente le osservazioni del satellite Planck ci offrono la possibilità, visto che questi cirri sono particolarmente visibili anche alle frequenze che corrispondono al lontano infrarosso, dicevo le osservazioni di Planck ci permettono di fare una mappatura di queste polveri, di questo gas responsabile di questa emissione e di avere quindi uno strumento per correggere anche le osservazioni come questa che vi sto facendo vedere. Ecco all'interno di questa immagine vediamo una varietà enorme di oggetti come galassie, come stelle, vedete ci sono stelle più calde che hanno un colore più bianco, ci sono stelle che magari sono più rosse perché sono stelle più fredde e abbiamo una notevole quantità, un'immensa quantità di galassie, ognuno di questi puntini che vediamo all'interno di questa immagine sostanzialmente una galassia lontana. Adesso proviamo a zoomare ulteriormente, quindi apriamo un'altra immagine, ecco e qui abbiamo zoomato di un altro fattore 4 rispetto all'immagine precedente, quindi abbiamo uno zoom di un fattore 12 rispetto al mosaico iniziale e qui vediamo molti più dettagli chiaramente. Vediamo molto bene le stelle con queste strutture allungate che si chiamano spike di diffrazione che sono frutto dell'interazione della luce emessa da queste sorgenti con il sistema ottico del telescopio e vediamo una varietà di forme diverse delle galassie presenti all'interno di questo campo. Ad esempio questa è una galassia spirale vista di taglio, una galassia che si chiama NGC 2188 che si trova ad una distanza da noi pari a circa 25 milioni di anni luce. Questo è l'ammasso di cui parlavo precedentemente, che si vede ovviamente molto meglio. L'ammasso è costituito principalmente da galassie rossastre o di colore diciamo giallastro, come queste galassie molto massicce, molto grandi, che si vedono molto chiaramente e che un po' dominano questa scena. Una cosa veramente impressionante delle osservazioni condotte da Euclid è che la grande risoluzione spaziale che ha, che hanno gli strumenti a bordo del satellite, in particolare lo strumento VIS, ci permette di apprezzare delle differenze morfologiche tra galassie che lasciano veramente essere fatti. Io ho avuto l'occasione di diciamo di navigare diverse diverse immagini ottenute da Euclid in questi primi mesi di osservazioni e all'interno di questo enorme volume di dati che Euclid ha già prodotto, ho visto galassie di ogni tipo, ho visto oggetti capaci di produrre effetti di lente gravitazionale, per esempio, distorcendo le immagini di galassie più lontane attraverso la loro gravità. Insomma una vera e propria miniera di informazioni per diversi tipi di applicazioni scientifiche. Se proviamo a zoomare ulteriormente, adesso zoomiamo diciamo circa 36 volte rispetto al mosaico iniziale, quindi andiamo a guardare quest'area che è indicata in verde all'interno del mosaico originale, originale. Quello che vediamo è questa immagine, ok? Questo è uno zoom sulla regione dell'amasso di galassie di cui si parlava prima. Questo ammasso di galassie si chiama Abel 3381 ed è un ammasso di galassie che si trova ad una distanza di circa 500 milioni di anni luce da noi. Come vedete, qui si vedono le due galassie, anzi le tre galassie dominanti l'amasso. Queste sono tra le galassie più grandi che possiamo osservare nell'interno universo. Queste galassie che si trovano tipicalmente al centro degli ammassi di galassie hanno masse stellari di circa 10 alla 13 volte la massa del Sole, quindi delle strutture veramente mastodontiche. E vicino a questo ammasso di galassie vediamo altre due sorgenti, altre due galassie, anzi qui ne vediamo anche più di due di galassie spirale, ma ci sono in particolare queste due galassie che sembrano avere una forma abbastanza distorta, sono galassie in interazione che possiamo vedere con ancora maggior dettaglio se andiamo ad aprire l'immagine che corrisponde all'ingrandimento in azzurro all'interno di questo mosaico. ed ecco qui quello che vediamo. E qui possiamo veramente apprezzare la grandissima risoluzione che ha questo strumento, che ci permette di vedere la struttura su piccola scala all'interno di queste galassie, mostrandoci ad esempio in dettaglio la loro struttura spirale, anche il modo in cui l'interazione tra questi due oggetti disturba la loro struttura interna di questi sistemi. Possiamo vedere che ci sono dei nuclei di formazione stellare, degli agglomerati di stelle all'interno di queste immagini, di queste sorgenti, che sono anch'esse estremamente interessanti appunto da studiare. Ed infine se aumentiamo, se sdomiamo ulteriormente sul mosaico iniziale, quindi ingrandiamo di circa 600 volte il mosaico iniziale, andiamo a vedere con ancora maggiore dettaglio la struttura di una delle due galassie spirale di cui stavamo parlando precedentemente e qui vediamo che iniziamo a notare quelli che sono i limiti diciamo di risoluzione dello strumento, qui l'immagine appare un pochino più rumorosa rispetto agli ingrandimenti precedenti, però possiamo notare appunto il grande dettaglio che possiamo avere da queste osservazioni della struttura interna di questa galassia che si trova ad una distanza di circa 400 milioni di anni luce da noi. Ecco, dopo aver visto queste immagini, quello che a noi astronomi colpisce maggiormente è la grandissima quantità di oggetti con morfologie, con caratteristiche diverse che possiamo osservare con uno strumento come questo, quindi la grandissima quantità di applicazioni scientifiche che saranno possibili attraverso l'utilizzo di Euclid per osservare l'universo lontano. Potremmo usarlo per studiare stelle all'interno di galassie più vicine, così come potremmo usarlo per studiare sorgenti estremamente lontane, fondamentalmente le prime galassie che si formano nell'universo lontano. a presto! a presto! a presto! a presto! a presto! a presto!